Ciao a tutti da Argomenti, ci troviamo presso il 2.0 con l'amico e chef Marco Angeli e insieme a Marco questa mattina ci sono altri collaboratori i quali stanno lavorando su una linea particolare pasta all'uovo allora Marco a me piace solo mangiare nel tecnicismo spiegate perché io non me ne intendo vai niente questa mattina con questi due bandigionotti stiamo affrontando un percorso ecco di pasta fresca all'uovo quindi stiamo utilizzando delle uova bio e andiamo a fare dei ravioli abbiamo già fatto dei tortelli con un ripieno di carbonara adesso stiamo facendo una cosettina un pochino più semplice quindi classico forma di raviolo mezzaluna e come farcitura quindi come topping abbiamo utilizzato creata per l'appunto da noi una ricotta baccina con all'interno un'aromatizzazione all'erbe quindi il semolo e la parcipoltina sale olio pepe abbiamo rifrullato in tutto e rimontato a crema e stiamo per l'appunto facendo i ripieni adesso ecco i ragazzi stanno stendendo l'ultima sfoglia che abbiamo già fatto penso un 5-600 da stamattina vero Valerio? allora Valerio come ci troviamo qui con lo chef Marco Angeli? ci troviamo bene bravo è un bravo chef ci sta insegnando tante cose che non ce ne avevamo allora sentiamo anche la ragazza allora che cosa stiamo facendo? allora in questo momento stiamo stendendo la pasta all'uovo con uno stel di pasta e andiamo a creare una sfoglia in modo poi da andare a metterci all'interno ripieno richiudere e fare i nostri ravioli e le tortelle perfetto allora ragazzi io vi saluto vi auguro un buon lavoro allora Marco ricordiamo gli appuntamenti 2.0 si parte il 2.0 siamo aperti dal lunedì al venerdì a pranzo quindi con un pranzo veloce dove diamo sempre le cose fresche di giornata con un minimo prezzo di 9,90 euro siamo aperti poi alla sera dal giovedì alla domenica quindi il giovedì partiamo con il karaoke dove Mirko è sempre presente non ne salta uno il venerdì abbiamo una cena spettacolo con DJ set il sabato item DJ set con cena alla carta quindi aperi cena chi più ne è più ne petta la domenica invece siamo con l'aperitiamo quindi un appuntamento con i comici di Colorado e Zelig e facciamo questo mega aperitivo tutti statuti al tavolo perché in questo periodo abbiamo veramente bisogno di ridere quindi niente noi siamo qui lunedì per di pranzo giovedì domenica la sera ok Marco un abbraccio ciao a tutti da argomenti ragazzi in bocca al lupo e complimenti grazie